Ok qua vediamo il livello di innervazione, adesso inarca la schiena e guardi su spalle dietro, aspettiamo un attimo, allora vedi che siamo guadagnati a qualcosa, vedi che sono sopra adesso, se ti abbassi ancora il sedere un po' di più ancora, ok, e adesso curva la schiena, vedi che si va giù un attimo, adesso curva in su, guadagno un 10% qualcosa, ok, 10% non è poco, 15% ok, bene.